Tisadica SM Play Party domenica 27 febbraio 2011 a Lugano nasce Tisadica dalle 17 alle 24 esclusivo Play Party SM dove l'unica regola è giocare è giocare fantastiche playroom performance by bondage menage video set line by TM2 club production music selector Christian Mann from Tentense Radio Show Tisadica SM Play Party save the date domenica 27 febbraio 2011 dalle 17 alle 24 le regole del gioco sono state scritte